Buonasera, una e tre minuti, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo da Trieste, dove domani non ci sarà l'annunciata e attesa manifestazione. Il timore di infiltrazioni e di una degenerazione violenta delle proteste ha indotto il portavoce Puzzer ad annunciare, a chiedere al popolo del No Green Pass, pronto a manifestare di rimanere a casa, anche se c'è un'altra parte di quel mondo variegato che contesta il Green Pass e il vaccino che ha deciso invece di rimanere in presidio in Piazza Unità. Vediamo. Manifestazione annullata. La comunicazione alla questura di Trieste arriva alle sede del pomeriggio. Il coordinamento, 15 ottobre, fa sapere di voler annullare il corteo contro il Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro previsto per domani pomeriggio nelle vie del centro della città. Corteo, nel quale erano previste, secondo la prefettura, oltre 20.000 persone. E a spiegarlo in maniera chiara è il portavoce Stefano Puzzer con un videomessaggio su Facebook. Fidatevi di me, fidatevi di me di quello che vi sto dicendo. C'è qualcuno che sta venendo qua a Trieste, non parlo di qualcuno, ma parlo di centinaia e centinaia di persone che vogliono far venire qui e rovinare l'obiettivo a tutti. Un'ora prima era stata proprio la questura ad allertare l'ex portavoce del sindacato autonomo dei lavoratori portuali. Quelli che volevano bloccare il porto fino a quando il governo non avesse revocato il decreto contro l'obbligatorietà del Green Pass al lavoro per tutti. Che c'era il serio rischio di infiltrazioni di black bloc e frange estremista di destra e sinistra. e che quella manifestazione che i no Green Pass volevano pacifica sarebbe potuto diventare teatro di scontri e violenze. Alla fine il coordinamento 15 ottobre invita tutti a restare a casa domani e sabato ma conferma per sabato l'appuntamento col ministro Patuanelli e forse anche Roberto Speranza per discutere il decreto del governo. Ma piazza, unità rimane divisa con l'altro coordinamento che fa capo a Ugo Rossi, leader del Movimento 3V che contesta l'appuntamento col governo facendo sapere che i presidi continueranno in piazza a oltranza. Dopo un lungo periodo di assenza Silvio Berlusconi è tornato a Bruxelles ha partecipato oggi alla riunione del Partito Popolare Europeo poi ha incontrato Angela Merkel, ha parlato molto di Mario Draghi dicendo che preferisce e preferirebbe vederlo ancora a Palazzo Chigi ha rivendicato l'appoggio che gli diede a suo tempo come governatore della Banca d'Italia e poi alla BCE e poi la sua giornata si è conclusa con l'assoluzione del processo Rubiter. Il fatto non sussiste, la giornata particolare di Silvio Berlusconi si è conclusa così è stato assolto dal Tribunale di Siena al processo Rubiter filole toscano della saga delle olgettine. Berlusconi, prosciolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari al termine di un processo in cui era imputato insieme al pianista senese delle serate di Arcore Danilo Mariani, assolto anche lui. Berlusconi è sollevato e soddisfatto, ha riferito uno dei suoi legali e il giusto epilogo di un processo che doveva finire prima, aggiungono i difensori. Nei suoi confronti i pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a 4 anni e 2 mesi. Le indagini su questo filone erano concentrate su alcuni pagamenti ricevuti negli anni da Mariani da parte di Berlusconi. Un esito giudiziario è arrivato al termine di una giornata in cui il Cavaliere è sceso di nuovo in campo nel tentativo di riconquistare la scena anche a livello internazionale, con la trasferta a Bruxelles dove ha partecipato al vertice del Partito Popolare Europeo e dove ha incontrato Angela Merkel. Berlusconi si rilancia al centro dei giochi in vista della corsa al Quirinale. Draghi sarebbe un ottimo presidente della Repubblica, ma mi domando se il suo ruolo attuale, continuando nel tempo, non porterebbe più vantaggi al nostro Paese, ha detto. Un modo per rilanciare la sua candidatura sul colle più alto, come successore di Mattarella, sostenuta da Salvini e da Giorgia Meloni, in un percorso politico che si profila difficile da praticare. Il percorso politico di Berlusconi in questi giorni è stato anche quello di provare a ricompattare il centro-destra dopo i risultati delle amministrative, ma oggi un audio di una frase di Salvini sembra aver fatto capire che le cose non sono proprio così come sembrano, che tutta questa compattezza ancora non c'è. Matteo Salvini, la frase che mette in dubbio la sintonia interna alla coalizione di centro-destra, la pronuncia durante un vertice dello Stato Maggiore della Lega, assente il solo Giorgetti. Le critiche dall'opposizione di Giorgia Meloni sembrano più dirette contro Lega e Forza Italia che contro il Partito Democratico e 5 Stelle, dice in sintesi il leader della Lega. Con Giorgia ci scambiamo sempre messaggi scherzosi, non sarà un audio rubato a farci litigare. Prova a chiudere il caso immediatamente Salvini. Concetto ripreso con le stesse parole anche da fratelli d'Italia, tutti vogliono evitare un crescendo che evidentemente viene considerato poco utile. Salvini anzi, per ripartire dopo il flop alle amministrative, rilancia annunciando mosse condivise a partire dalle proposte da presentare al Premier Draghi su tasse e pensioni. Possiamo essere decisivi per l'elezione del nuovo capo dello Stato, evitare che ci vada Franceschini Uprodi, aggiunge ancora il leader leghista. Ma quello del suo audio non è l'unico problema interno alla coalizione. Allo scoperto contro l'appiattimento di Berlusconi sulla linea sovranista escono, dopo la ministra Gelmini, anche i suoi colleghi di Forza Italia al governo, Carfagna e Brunetta. Non so cosa le ha preso, ha provato a liquidare l'argomento Berlusconi. Lei ha interpretato un disagio diffuso, rilancia Carfagna, bene i vertici di coalizione ma non possono esaurire la vita di partito, si schiera anche Brunetta. Al Consiglio europeo oggi è tornata al centro dell'attenzione la questione della Polonia e del rispetto dello Stato di diritto messo in discussione da leggi che intaccano l'indipendenza della magistratura e dalla sentenza della Corte Costituzionale che nega la primazia del diritto europeo. C'erano tutti i leader, ovviamente dalla parte della Polonia si è schierato Orban e il leader lituano ma tutti gli altri sono d'accordo che c'è un problema, le posizioni sono però diverse. Italia, Spagna, Francia e Germania premono per tenere aperto il dialogo e poi c'è un fronte di intransigenti, Olanda, Belgio, paesi scandinavi vorrebbero procedere con l'articolo 7 che prevede la sospensione dell'adesione dall'Unione. Di fatto già con la sospensione dell'erogazione dei fondi del recovery c'è una sorta di attesa per quello che riguarda il futuro della Polonia in Europa. Andiamo a Washington dove la Camera ha votato per l'incriminazione per oltraggio al Congresso di Steve Bannon, ex consigliere e potente alleato di Donald Trump. Ai Democratici si sono uniti nove deputati repubblicani. Bannon si era rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d'inchiesta sull'assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio. Condotto lo ricorderete da una folla di sostenitori di Donald Trump allo scopo di rovesciare l'esito delle elezioni presidenziali. La testimonianza di Bannon è ritenuta utile proprio per capire quali fossero in quei momenti le azioni e le intenzioni di Donald Trump. Ora la parola passa al Dipartimento di Giustizia che dovrà decidere se perseguire Bannon che rischia fino a due anni di carcere. La regina Elisabetta II ha trascorso la scorsa notte in ospedale. Lo ha fatto sapere Buckingham Palace quando la sovrana era già tornata al castello di Windsor. Elisabetta aveva ieri annullato una visita in Irlanda del nord e ha seguito i consigli del medico per riposare per alcuni giorni e fare accertamenti circa la sua salute. È tornata appunto nel pomeriggio a Windsor dove già oggi si era rimessa al lavoro. Il prossimo anno la sovrana festeggerà i 70 anni sul trono. E adesso il calcio. Cominciamo col crollo della Roma nella terza giornata di Conference League. Stravolti dal turnover, i giallarossi sono stati sconfitti dalla squadra norvegese del Bodo Glimt per ben 6 a 1. Adesso i norvegesi hanno scavalcato la squadra di Morigno al primo posto del girone. In Europa League invece vittoria casalinga per il Napoli 3 a 0 sulla capolista Legge-Varsavia nella ripresa ai gol di Insigno, Gimèn e Politano che hanno condannato così i polacchi rilanciando in classifica aperta i nopei. Sempre in Europa League, infine pareggio interno per la Lazio che si è fatta bloccare sullo 0 a 0 dal Marsiglia, un punto che lascia però inalterate le speranze di qualificazione dei bianco celesti. È tutto, è l'1 e 12 minuti. Noi ci fermiamo qui come sempre domattina alle 7 e torno all'informazione. Grazie, arrivederci e buonanotte. Grazie.